Salve sono Manuela e anche io sono studente di Digital Coach. Il mio percorso con Digital Coach è cominciato circa un anno fa quando ho deciso di ampliare le mie scarse e scarsissime conoscenze nell'ambito digitale. Io sono proprietaria di Vinoteca Nazionale che ha anche un e-commerce e quindi come non approfondire le conoscenze digitali? Così ho cercato su internet una scuola che mi desse le maggiori informazioni per quello che serviva a me. Mi sono imbattuta in Digital Coach e ho avuto subito un colloquio con una persona specializzata che mi aiutava a capire qual era il percorso adatto alle mie esigenze. In più Digital Coach mi offriva anche la possibilità di seguire le lezioni on demand, cosa per me molto importante visto che io lavoravo e seguirle online era piuttosto complicato. Così insieme a questa persona abbiamo deciso il corso più consono a me e mi sono iscritta. Ho scelto il corso di e-commerce specialist e ho seguito le lezioni on demand. Le lezioni sono tutte interessantissime, i professori tutti competenti. L'unica cosa che manca nell'on demand purtroppo è il contatto, però se hai qualche dubbio o qualche domanda da fare comunque la puoi fare attraverso il gruppo di LinkedIn della scuola e i professori poi sono tutti disponibili, quindi è superabile. Inoltre Digital Coach ti dà la possibilità anche di avere quattro incontri con un coach della scuola che ti dà dei task che ti aiuta e per me è molto utile perché comunque hai un confronto. La mia coach è Elena con cui mi sono trovata molto bene e mi ha aiutato molto. La scuola Digital Coach io la consiglierei a tutti perché per me che comunque non ero proprio pratica per niente nell'ambito digitale io adesso riesco a fare molte cose sul mio sito e-commerce. Certo da sola non posso fare tutto, però quello che devo fare, cercare, capire tante cose con lo studio di Digital Coach lo posso fare, mentre prima avevo bisogno per forza di un'altra persona che mi diceva cosa fare. Quindi è una scuola che consiglio ed è stato un percorso molto interessante.